Ciao a tutti ragazzi sono di nuovo io Simo Bricks Oggi sono qui in questo video per recensirvi questo set Audi R18 Tron 4 Della linea Lego Speed Champions di quest'anno Un po' di riflessi della mia luce però vabbè Subito una cosa da notare Io queste scatole le apro in questo modo In modo da 1. Non rovinare la scatola 2. Avere un piccolo spazio dove mettere i pezzi E' veramente un'idea molto utile Ok io l'ho già montato e adesso vi faccio vedere il manuale delle istruzioni Devo dire il manuale delle istruzioni è abbastanza grosso E' ripiegato a metà perché la scatola non... Anzi vediamo subito La scatola riesce a raccoglierlo? Bella domanda Effettivamente no Perché non ci sta Vedete non ha abbastanza spazio E quindi la Lego ha deciso di... Per non rovinarlo ha deciso di piegarlo a metà Mi sembra una buona idea Ok Manuale di istruzioni Veramente carino Vabbè solite... Solite istruzioni classiche Che conoscete bene E' veramente una bella macchina La costruzione è stata interessante Per i miei gusti ci sono troppi adesivi Però sostanzialmente sono necessari per fare modelli di questo genere Che siano realistici rispetto alla macchina Quindi mi sembra un buon compromesso Tutto sommato è andata abbastanza bene la costruzione Alcuni adesivi sono veramente difficili da mettere perché sono piccolissimi Ma sono riuscito a metterli e a non metterli storti Quindi sono soddisfatto E questo è sempre un po' il problema Ma ora passiamo direttamente alla macchina Eccola qua Uno stupendo modello Devo dire E... Sono veramente soddisfatto di aver acquistato questa macchina Ma ora iniziamo subito a vedere i dettagli Iniziamo da davanti E vedete che replica molto bene la... La versione di Le Mans Adesso ve la faccio vedere Sulla scatola c'è illustrata la macchina E devo dire che è veramente carina Vista da qua da davanti è veramente molto bella Molto adesivi Tutti quelli che vedete sono adesivi Tranne questo pezzo qua del finestrino All'area di guida perché è stampato C'è scritto Audi R18 e Tron 4 E' veramente carina La cosa bella di questo set Sono i pezzi Vedete Le prese d'aria qua che portano al motore Sono veramente carine Perché hanno... Vedete c'è una portiera Vedete cosa serve una portiera? Eh niente E' soltanto di decorazione Serve per dare più profondità Vedete i dettagli sono molto carini I soliti parafanghi classici della linea Speed Champions Qua questa è tutta la linea d'aria Questa deve essere una presa d'aria E' tutta aerodinamica Insomma Vedete Molto carina L'alettone Sembra quasi nascosto da Questa linea di presa d'aria E... Non male Devo dire veramente carina Il retro vedete Abbiamo un po' di... Una sottospecie di linea aggressiva Per lo scappamento Vedete Senza farvi vedere il riflesso della luce Veramente difficile Però comunque E' venuta bene Il design Le ruote sono Classiche Classiche Speed Champions Con cerchioni intercambiabili Che in questo caso sono Questi Adesso vi faccio vedere Se riesco a prenderli Sono di questo tipo Eccoli qua Vengono sempre con Con questi set Cerchioni di ricambio Sono veramente utili Ora passiamo a vedere La zona cockpit In questo caso c'è una console Di comando E' un adesivo Volante classico Il nostro autista Autista Il nostro pilota Scusate Si toglie E c'è La zona Un guidatore Veramente carina Ora passiamo a vedere La nostra minifigura Eccola qua Vedete davanti Un po' di adesivi C'è C'è scritto Audio Tron 4 Vediamo se riesco a metterlo a fuoco Vabbè Togliamogli il casco Ha una faccia molto basic E viene con questa Chiave inglese Che serve per togliere il cerchione Il set Comprende anche questa Piccola pompa della benzina Eccola qua Molto carina Un indicatore Veramente molto semplice Pompa della benzina O dell'aria Delle gomme E' un po' quel che volete E' semplice Si attacca A queste Routine Finte Utilizzate con dei pezzi Meccanici Quelli che si sollevano E Fa la sua figura E' veramente un bel set Ragazzi Sono soddisfatto Per questo video è tutto Ciao e alla prossima Ciao